finora abbiamo parlato del passato 9.000 anni fa oggi che cosa sta succedendo una bella domanda questa allora io diciamo che potrei risponderti anche un po in base alle mie competenze astrologiche l'astrologia è una scienza sacra antica che sapeva mettere il rapporto cielo e terra e attraverso lo studio dei movimenti astrali che sono se noi vediamo i pianeti come coscienze come archetipi fondamentali delle forze del nostro universo ci possono veramente raccontare tante cose e noi stiamo vivendo un momento di passaggio fondamentale perché stiamo passando dall'antica era dei pesci a quella dell'acquario dal punto di vista astronomico ecco perché ecco qui vedi mi rivolgo però nuovamente un po al passato red perché gli antichi sapevano come dicevo prima che noi viviamo all'interno di un ambiente che cielo terra no e si sentivano parte di questo ambiente avevano compreso che noi viviamo all'interno di cicli d'altra parte la nostra vita dove dove ci incarniamo sulla terra e qui viviamo all'interno di cicli tra questi cicli ci sono quelli brevi come il giorno e la notte quelli mensili della luna quello dell'anno solare ma ci sono anche questi lunghi cicli astronomici che portano la vibrazione della terra ogni 2160 anni circa a entrare in una vibrazione diversa perché tutto è veramente vibrazione tutto energia come oggi anche la fisica quantistica ci spiega molto bene e adesso noi siamo in un stiamo vivendo un momento epocale cioè è molto interessante questo momento che stiamo vivendo siamo incarnati qui in questo presente siamo in questo passaggio in una nuova era e quando una vibrazione cambia ci sono sempre degli sconquassi perché proprio come se una nuova visione debba arrivare ti faccio un esempio quando è cominciata l'era dei pesci e l'era di gesù gesù è nato esattamente nel passaggio tra le tra l'era più antica della riete quella dei pesci e lì c'è stato un cambiamento comunque divisione epocale in quel periodo perché sono nate comunque le spiritualità come il buddismo poi l'islam il cristianesimo no quindi c'è stato un forte cambiamento e anche adesso noi stiamo vivendo all'interno di un forte cambiamento quindi è come se le forze antiche si dovessero disgregare per accogliere il nuovo ma quello che è interessante di questa epoca dell'acquario di cui si è sempre parlato tanto nei libri comunque esoterici nelle scuole iniziatiche è che l'acquario è un segno molto particolare intanto perché è rappresentato da una figura è un segno quindi non con un animale ma è una figura diciamo umana androgina uomo e donna e questo vuole vorrebbe dire da un punto di vista simbolico un passaggio a una coscienza più alta una coscienza più alta e tra l'altro interessante perché una figura androgina dovrebbe essere anche l'era in cui finalmente l'energia del maschile del femminile andranno ad equilibrarsi quindi non una che è prevale sull'altra e questo aspetto appunto di un passaggio di coscienza e quindi elevarci a una coscienza più alta l'acquario è anche un segno molto legato all'eguaglianza quindi la tolleranza fra le diversità e quindi quello che ci auspichiamo è quello proprio che si andrà incontro a una società più egualitaria dove magari non ci saranno più i soprusi o i privilegi che ci sono stati finora e noi stiamo appunto passando proprio in questo momento e quindi ci sono delle forze proprio anche nel momento in cui è cominciata tutta questa situazione complessa lo scorso anno c'erano posizioni astrali molto difficili tuttora ci sono nel cielo però andremo incontro a momenti invece di al di grande apertura e ti posso dire questo sempre parlando in questi termini che il mio campo di competenza ma quando ci avvicineremo il 2025 2026 si formerà nel cielo una configurazione astrale molto positiva proprio di una configurazione astrale proprio di apertura in cui i pianeti più lenti plutone urano nettuno saranno in una posizione proprio fluida e armonica e quello dovrebbe proprio essere il primo momento di elevazione spirituale forte sul nostro pianeta e quindi diciamo che quello che sta accadendo ora io lo vedo proprio un po come questa disgregazione di certi valori che ormai sono vecchi non servono più quindi chi ha agganciato quei valori sta cercando di conservarli in qualche modo no in maniera molto anche forte però andranno per forza disgregandosi perché c'è anche tutta una nuova coscienza che si sta che si sta comunque creando nutriendo e lo vediamo perché al momento noi vediamo anche forse una forte dicotomia no una divisione anche di pensiero e divisione e questo proprio perché sta emergendo tutta una nuova coscienza che andrà sempre di più secondo me amplificandosi ed evolvendosi quindi io sono molto positiva rispetto al futuro è un momento di passaggio duro e difficile ma andremo incontro a un momento secondo me bellissimo in cui vedremo veramente un risveglio già lo vediamo se stiamo attenti e guardiamo vediamo che c'è un risveglio molto forte no io vedo molto una spaccatura qui ad esempio siamo in mezzo alle rocce dove 9 mila anni fa venivano a guarirsi con le frequenze oggi invece c'è l'apoteosi della chimica l'apoteosi dell'anti frequenza dell'anti star bene però bisogna anche dire che c'è tutta una parte quella è che non normalmente non ci viene detto così non ci viene detto attraverso i canali informativi così però c'è tutta una parte invece tutto un mondo che sta appunto invece avvicinandosi a un tipo di guarigione vibrazionale sta lavorando sulle frequenze ancora un sottobosco ma emergerà sempre di più quindi a noi fanno vedere di più ci sarà sicuramente l'interesse far vedere vedere la spaccatura a mettere maggiormente in luce appunto un certo utilizzo chimico ma c'è tutto un altro mondo che sta emergendo e quello sarà il mondo sarà la grande forza sono molto positiva su questo ci sarà guarda tutto il lavoro che c'è di sottobosco è tantissimo e tantissimo e finirà per emergere perché quello intanto non possono arrivare a distruggerlo quello non possono arrivare a distruggerlo c'è veramente tanta gente che sta lavorando molto bene ne incontro di queste persone sono veramente persone diciamo così di buona volontà sono persone che hanno un'altra visione e con molto coraggio con molto impegno stanno portando avanti altri studi quindi c'è anche tutto un sottobosco di pubblicazioni basta andare a trovare questi libri quindi c'è tanto di altro io quindi sono molto positiva che ci sarà questo cambio molto forte e non ci vorrà molto tra l'altro tu prima hai detto che Gesù Cristo era l'era dei pesci no nel Vangelo a un certo punto quando lui se ne va nell'altra dimensione gli chiedono maestro ma quando tornerà come faremo riconoscerla e lui dice avrà una brocca di acqua in mano quindi l'acquario bello quello che dice mi sta facendo venire i brividi eh sì è l'acquario perché lui conosceva infatti lui quando infatti lui conosceva bene perché ha fatto sappiamo studi probabilmente anche in Egitto eccetera che cosa utilizzava lui come simbolo come corrispondenza sempre i pesci no c'è sempre la moltiplicazione dei pesci era il simbolo dei cristiani ma perché perché lui era venuto nell'era dei pesci quindi sapeva di essere il portatore di una nuova visione no e quindi detto questo sì certo ma in questo caso non sarà più un unico individuo ma appunto tutti questi individui che lavorano perché l'acquario è anche proprio il segno della cooperazione della collaborazione non più il maestro un maestro illuminato che arriva e porta la parola no tanti che portano il loro esempio la loro parola e che coopereranno insieme già si sta vedendo questo no quante persone si incontrano cooperano quindi c'è tanto che sta avvenendo dall'altra parte quindi sono molto fiduciosa molto fiducia nel futuro e non se non è lontano insomma questo cambiamento già molto buono poi non finirà magari proprio ci saranno ancora certamente delle parti più ombra ma stiamo andando incontro una veramente a questa nuova era